Per capire la bellezza di questa solennità ed evitare di fare voli pindarici, dobbiamo partire sempre dalla concretezza della nostra vita, perché è da lì che si comincia a capire qualcosa delle meraviglie che Dio ha fatto, attraverso la creazione dell'universo, la nostra creazione, ma anche la redenzione. Partiamo proprio dall'evento più terribile della nostra vita, che è la morte. La morte è qualcosa che distrugge tanti sogni, distrugge tante cose belle. Pensate quando tu ti leghi a una persona, un figlio, una figlia, un marito, una moglie, un amico, un'amica, e poi improvvisamente arriva qualcosa che si chiama malattia, che porta alla morte, e ti strappa questa persona cara. Dentro di te qualcosa grida, è ingiusto, non è giusto che io debba andare incontro a questo dolore così forte. E tutto quello che ho fatto, che abbiamo fatto, tutto quello che abbiamo costruito insieme, tutti i progetti, dove vanno? Ed è ingiusto. Perché? Perché tutto questo non appartiene a Dio. Tutto questo è opera di una scelta libera che noi abbiamo fatto, attraverso i nostri progenitori, quando ci è stata consegnata la vita nelle mani. È come un foglio in bianco da scrivere. Dio ci ha dato una terra bellissima, Dio ci ha dato la possibilità di esistere, la libertà di determinare il nostro futuro. Ci ha dato delle indicazioni, l'albero della conoscenza del bene e del male. Ecco, ci ha dato proprio degli input per dire se ti comporti in questo modo potrai sempre vivere nella gioia con me. Se ti staccherai dall'amore, ecco, tu sperimenterai qualcosa che adesso non conosci, che è il dolore, che è la morte, che è la malattia. Ecco, quindi noi sappiamo cos'è, perché noi siamo nati con questa inclinazione al male, attraverso il peccato originale, che ci è stato comunicato di padre in figlio, perché ci comunichiamo anche queste malattie spirituali, come a volte quelle fisiche. E quindi sperimentiamo dentro di noi questa rottura terribile. Ecco, Maria oggi ci ricorda che il Signore ci vuole un bene così grande da ricucire questo strappo. Si parla di lei come dell'arca della nuova alleanza. Che cosa vuol dire? L'arca della vecchia alleanza, qual era? Era una scatoletta dove gli ebrei avevano messo le tavole della legge che Dio aveva dato a Mosè, un vaso con la manna, il bastone di Aronne, con cui Dio aveva fatto grandi miracoli per liberare gli ebrei dall'Egitto. Quindi era una scatoletta dove era contenuto il segno del passaggio di Dio, Dio che voleva riprendere i suoi figli. Maria diventa l'arca della nuova alleanza perché non contiene tavole di pietra, ma è gravida di Gesù, del verbo della vita, di colui che ha il potere di distruggere ogni forma di malattia e di morte e di riaprire le porte del paradiso. E questo è in fondo che oggi Maria ci indica. Perché lei sola adesso è nel paradiso di Dio, è in corpo, è anima? Invece noi quando moriamo ancora andiamo solamente con l'anima, no? Nell'aldilà. Perché Maria è stata creata da Dio per permettere l'incarnazione del figlio senza peccato originale. E lei ha voluto, ha voluto rimanere fedele al suo Signore. Lei mai ha detto sì al peccato. E' questo che l'ha resa grande. Non sono stati i doni che Dio le ha dato, ma l'uso buono che lei ha fatto di questi doni. E' rimasta in comunione profonda con Dio al punto tale che mai pensieri di morte e di peccato o sentimenti di morte e di peccato sono stati accolti da lei. Per cui Maria è passata nella vita veramente come l'immacolata concezione. Perché lei si è impegnata in questo. E la grazia di Dio ha aiutato la sua libertà a scegliere ogni momento della giornata ad ogni bivio della giornata il bene. Voglio Dio. Voglio l'amore. Voglio, ecco, vivere nella volontà Tua, Signore. Aiutami. E questo perché? Perché Maria si è fatta anche donna di preghiera. Sempre, no? Come una persona amata, Dio era nel suo cuore e nella sua mente. Ogni momento della sua giornata. È come quando noi ci innamoriamo. La persona che tu ami la porti sempre con te. Nella mente e nel cuore. Vive con te. Perché tu ti leghi a lei. Ecco, questo Maria oggi ci fa capire. E quindi lei è... In lei si è realizzato quel progetto che Dio avrebbe realizzato anche su tutti noi se non avessimo peccato. È tutto qui. Quindi Maria ci indica un progetto già compiuto. Maria ci indica che cosa? La salvezza di Dio operata. E dice non abbiate paura perché Dio ha vinto la morte. Perché Dio, ecco, in me già vi fa vedere come risplenderà un giorno anche la vostra umanità. Perché Dio in Gesù ha ripreso tutto quello che voi siete. Gesù si è fatto uno di noi. E Gesù ha preso su di sé il nostro peccato, la nostra morte, ma per amore. Quindi oggi Maria ci invita ad avere coraggio, a non ripiegarci su noi stessi, a non farci abbattere dalle paure, dalla paura della morte in modo particolare. Perché Dio ha vinto la morte. Perché se tu guardi solamente il tuo problema, la tua paura, se tu guardi il tuo buio, tu già muori perché ti stacchi da Dio. Senza Dio non puoi superare queste cose. Oggi l'umanità è attannagliata da tanto male perché si è allontanata da Dio e quindi non trova in sé stessa la luce per superare i momenti difficili. Quante volte nelle nostre famiglie entrando il male, la divisione, la mormorazione, questa mancanza di rispetto, il perdono, tutto viene distrutto. Perché pensiamo di risolvere le cose da soli, perché ci accusiamo gli uni gli altri, perché rivendichiamo solo diritti e mai doveri. E Dio lo lasciamo ai margini della nostra vita e tutto si spegne, tutto si fa buio e tutto mi parla di morte. Magari dico Dio dove sei? Dio perché mi sta accadendo questo? Ma non ti rendi conto che ti accade questo perché tu non guardi più a Dio? Lo prendi forse come un tappabuchi al quale ti rivolgi solo quando hai bisogno di risolvere un problema. No! Dio va amato e va tenuto dentro di noi come la persona più importante, più bella. Ama Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze. Questo oggi Maria ancora una volta ci chiede. Perché quando Dio è dentro di te Dio ti porta avanti nell'amore ti aiuta a non andare verso il rancore, verso l'odio, verso la vendetta, ti aiuta a non fare guerra a te stesso né tantomeno agli altri perché Lui è la sorgente dell'amore e quell'acqua cristallina la quale tu ti puoi dissetare per superare ogni forma di male. quindi se nel tuo cuore bussa la paura della morte, della malattia, la divisione, tu opponi un no perché guardi a Dio, guardi a Maria come si sono comportati durante questa vita terrena che hanno perdonato anche i loro nemici. Gesù da quella croce ci insegna che l'amore non va mai abbandonato Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi Gesù ci fa capire che Dio è colui che ama Dio non è capace di odio di rancore Dio non si vendica Dio è amore in paradiso si entra solo se qui ci prepareremo ad amare allora quelle porte Dio ce le spalancherà un giorno non si può lasciare la terra col rancore nel cuore divisi dalle persone dai fratelli dai familiari è impossibile entrare nel cuore di Dio ecco oggi chiediamo guardando a Maria al Signore la grazia di distruggere attraverso il dono della sua presenza in noi ogni fomite di male di rinnovarci Signore aiutami ad avere Te perché io possa dissetarmi di Te e perché io possa attraverso Te superare ogni problema ogni paura guardare al futuro con speranza avere un cuore che sa comunque perdonare ricominciare perché questo è quello che mi farà vincere un giorno uscendo da questa vita quando anch'io dovrò morire e mi guarderò indietro che cosa conterà per me le cose che ho accumulato le lascerò i titoli sono cretinate ma guarderò se ho amato perché Gesù mi dice che il mio giudizio verterà solo sull'amore quando ognuno di noi quel giorno si presenterà davanti a Dio Dio ci chiederà che cosa hai fatto della tua vita hai amato hai seminato amore hai perdonato questo è il senso della vita noi siamo così stupidi che dimentichiamo queste cose e ci distruggiamo solo per accumulare siamo proprio stupidi fratelli e sorelle stupidi perché ci lasciamo annebbiare la mente e il cuore dal demonio la lotta che la prima lettura l'Apocalisse ci fa vedere quell'eterna lotta tra Dio e il demonio il demonio è una creatura anche lui come noi ha scelto liberamente di allontanarsi da Dio di dire solo per se stesso con orgoglio questa è la radice del peccato l'orgoglio presumere di farcela senza Dio ma senza Dio noi siamo come un fiume senza sorgente un fiume che è destinato a seccarsi ad entrare nella disperazione che chiamiamo inferno oppure morte eterna oppure incapacità di amare in eterno allora quella donna vestita di sole cioè vestita di Dio è colei che ci indica come si fa a passare su questa terra e allora quel mostro non potrà farti nulla ti muoverà a guerra ma non riuscirà ad entrare nel tuo cuore perché Dio da dentro di te ti difende e sigilla le porte della tua anima della tua mente e del tuo cuore questo oggi Maria ci chiede fidati di Dio ricomincia ad andare verso di Lui chiedi che perdoni tutti i tuoi peccati che tu abbia coscienza dei tuoi peccati e ricomincia con Lui ad amare allora vedrai sorgere dentro di te e fuori di te un futuro di luce e di speranza in fondo non è così difficile ma noi siamo così complicati che non pensiamo mai alle cose semplici ma la vita è bella la vita è meravigliosa e la vita ci è posta nelle nostre mani e ognuno è chiamato a scegliere cosa voglio fare della mia vita ma vi credete che perché io sono sacerdote adesso i paramenti ho la salvezza in tasca no no vi dico una cosa solo per farci capire la libertà una volta Santa Teresa Davila che vedeva Gesù durante la celebrazione eucaristica Gesù le fece vedere lo stato del sacerdote che celebrava e lei rimase inorridita perché vide quel sacerdote abbinchiato da due demoni mentre lui elevava l'ostia e le diceva Gesù a Teresa vedi quel mio sacerdote ha due demoni che tremano perché vedono me ma non lo mollano perché è in peccato mortale lui ha il mio potere quindi adesso può assolvere e consacrare ma se morirà così andrà quei demoni perché vive in uno stato di peccato mortale ed era sacerdote quindi pensate quanto è grande la libertà che Dio ci dona chiediamo oggi quindi al Signore Maria ecco di riprendere le redini della nostra vita della nostra libertà amando chiedendo al Signore di essere di venire dentro di noi perché ci aiuti ci insegni come si fa ogni giorno a vivere come Maria scegliere sempre l'amore sia lodato Gesù Cristo grazie a tutti